Ci troviamo a San Martino del Lago in compagnia di Natale che ci ha accolto nel suo giardino meraviglioso perché siamo circondati dalle rose. Buonasera, bentrovato e grazie per l'ospitalità. Ci mancherebbe, grazie a voi per essere venuti. Siamo veramente entrati in un mondo quasi fantastico perché siamo circondati da fiori, sono tutte rose delle varietà più diverse. Che cosa possiamo trovare qui? Quali tipi? Dalle rose moderne alle rose antiche, dalle rose tappezzanti ai cespuglioni, rampicanti, arbustive, tutto quanto. Ci sono, diciamo così, in media circa 300 varietà di rose. Come distinguiamo una rosa moderna da una rosa antica? Bisogna vedere un po' com'è il fiore. Di solito i cinque petali, rose e cinque petali, sono, diciamo così, sinonimo di rose antiche, rose che arrivano dalla nostra preistoria in pratica, dove poi gli eventi naturali hanno plasmato questa pianta, hanno prodotto altre varietà e successivamente poi l'uomo ha fatto la sua parte dal 1850 in poi. Ogni rosa racconta qualcosa? Ogni rosa ti racconta sempre un pezzo della storia dell'umanità. Le rose antiche sono legate a personaggi, a situazioni, a eventi particolari della storia dell'umanità. Per esempio, per dire, la rosa antica, Chapeau de Napoleone, ha, diciamo così, delle caratteristiche molto particolari. Ha un bocciolo corredato di frange che richiamano la tricuspide del cappello di Napoleone. C'è forse un aspetto poco conosciuto o meno conosciuto, diciamo, della rosa che è l'utilizzo in cucina? La rosa può essere utilizzata in cucina con tranquillità, al posto del timo, al posto della maggiorana, al posto con il rosmarino, con la salvia. Esiste infatti una varietà di rose antiche, la Gallica officinalis, che è caratteristica per questo suo impiego. Davvero un mondo tutto da scoprire, anche quello delle rose. Quindi ringraziamo Natale per averci accompagnato in questo splendido giardino. Grazie a voi, grazie a voi.